che vi siano auto di apertura e auto di chiusura perché segnalano il serpentone che viaggia sulle strade normali, magari mi sarà anche capitato in queste giornate di incrociarla di vedere che vanno ad un ritmo, pensate, non si è superato in questi giorni i 24 km orari quindi chi ci ha incrociato ha dovuto forse avere un attimo di pazienza in più ma si è goduto un grande spettacolo, vi assicuro che c'erano famiglie affacciate alle case sapendo che le auto sarebbero passate proprio per portare il loro saluto per rubare uno scatto ricordo in particolare al rientro da Pignano ah ci siamo quasi, allora cominciamo Massimo Serra lo saluto che è arrivato, è lui che organizza per la scuderia Marche e partiamo con l'auto più recente che è una Jaguar E-Type Spider del 1969 numero 55 percorriamo il tempo al ritrosso signori, chiaramente arriva la più giovane vedremo in conclusione la più âgée chiaramente il premio la più bella 62 va all'abbinamento auto abbigliamento d'epoca e quindi trattandosi del 1969 questo è l'abbigliamento che l'equipaggio ha ritenuto di poter indossare per vincere, aggiudicarsi il premio della Croce Rossa italiana mi sembra una coppia particolarmente spiritosa e autoironica sicuramente hanno centrato l'obiettivo io vi dico qualcosa di più su questa fascinosissima Jaguar è prodotta solo in 70.000 esemplari dal 61 al 75 è una linea apprezzatissima